Esami diagnostici e visite mediche gratuite per un gruppo di ragazzi provenienti dall'Ucraina. E con questa ennesima iniziativa che i centri Verrengia hanno continuato ad offrire il loro contributo a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra. Dopo essere stati a fianco all'iniziativa del quotidiano Le Cronache che attraverso dei pullman arrivati ai confini tra Polonia e Ucraina hanno salvato e portato in Italia dei profughi, i centri Verrengia confermano di essere in prima linea per aiutare la popolazione. Così in questi giorni presso le sedie a Salerno i centri hanno ospitato un gruppo di ragazzi provenienti dalla nazione colpita dalla guerra che necessitavano di sottoporsi a diversi esami diagnostici e visite mediche per entrare a far parte di alcune società sportive del territorio. Siamo felici di poter offrire il nostro contributo e un aiuto concreto a chi fugge dalla guerra, ha commentato il direttore commerciale dei centri Verrengia, Carmine Giordano. I centri Verrengia hanno deciso di sostenere i ragazzi ucraini che vengono dall'Ucraina. Oggi quattro ragazzi sono arrivati in Italia giusto 15 giorni fa e devono fare attività sportiva. Noi come centri Verrengia ci offriamo visite per l'unità sportiva a questi ragazzi. Oggi sono arrivati quattro. Mi ha detto la loro operatrice che arriveranno altri dieci ragazzi il settembre prossimo. Siamo aperti per i ragazzi ucraini e anche eventualmente in questo caso per i loro genitori per offrire visite gratuite, diagnostiche, tutti quelli che i centri Verrengia offrono dalla diagnostica, fisioterapia, labori di analisi e visite medico-sportive. Grazie a tutti.